Tav da fine marzo aprono i primi cantieri tra Altavilla, Vicenza e Sovizzo. Ponte di Debba, si rimette in moto l'Iter per costruirlo, ci vorranno tre anni e 13 milioni. Riciclaggio internazionale, maxi operazione della Guardia di Finanza, arresti e sequestri. Al Betone, scontro frontale tra due auto in Riviera America, cinque i feriti. Padova ha processo i nomadi accusati di aver commesso 17 truffe agli anziani, alcuni nel Vicentino. Vicenza, la Basilica Palladiana riapre la terrazza con vista sul centro storico. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Vicenza e provincia. Apriamo la nostra edizione parlando della Tav, al via l'allestimento dei cantieri per l'attraversamento di Vicenza, 20 i siti principali tra Altavilla, appunto Vicenza e Sovizzo. Tav, nome in codice del progetto che ridisegna la Vicenza del futuro. Fa ripuntati sul secondo lotto della linea Verona-Padova, quello dell'attraversamento della città del Palladio. Al via l'allestimento dei cantieri, nei prossimi giorni, da fine marzo, si entra nella fase in cui apriranno i primi siti, che diventeranno pienamente operativi a partire da settembre. In tutto saranno 20 i cantieri principali distribuiti tra Altavilla, Vicenza e Sovizzo. Sono previste anche delle aree provvisorie di lavoro al servizio dei siti che realizzeranno la linea, come l'allargamento dell'attuale sede ferroviaria o la modifica della viabilità esistente. Le future aree di cantiere nel Comune di Vicenza compaiono in questa mappa. IRICAV2 ha inviato comunicazione a tutti i proprietari delle zone impegnate dai cantieri perché siano informati sui tempi e sui modi con cui procederanno i lavori. La linea TAV tra Verona e Padova punta a completare il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo del paese, favorendo la mobilità di persone e merci in una delle aree più industrializzate d'Italia. L'alta velocità, in questo tratto che fa parte del corridoio mediterraneo della rete Trans-European Transport Network, punta ad avvicinare il Veneto al resto d'Europa. Intanto Vicenza si prepara ad ospitare per lunghi mesi i cantieri e sarà una partita scacchi in cui bisognerà indovinare le mosse giuste per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità e la mobilità dei vicentini. La sfida che inizia sarà innanzitutto l'impatto dei lavori sulla città, non sarà facile, non sarà scontato, non sarà banale. Riprende l'Iter per costruire il nuovo Ponte di Debba, un'operazione da 13 milioni di euro. Ponte di Debba si riparte da dove si erano interrotte le comunicazioni, si riparte dal giugno 2023 quando è stata eletta la nuova giunta di centro-sinistra che aveva dato lo stop all'Iter avviato dal centro-destra con la provincia che era pronta a stanziare 10 milioni e 700 mila euro. Tutto fermo per valutare possibili progetti alternativi e invece niente di alternative non ce n'è. E allora si riparte da qui col via libera del Comune, si rimette in moto l'Iter per la costruzione del nuovo ponte. Credo sia un momento importante che in qualche modo prosegua questa opera tanto attesa dei punti di Debba. La risposta del Comune dà il via libera ora a quella che è l'operatività di abilità per conto della provincia di Vicenza. Sono felice che la risposta sia stata positiva e che abbia consentito la partecipazione di chi poi è responsabile del territorio, quindi del Comune di Vicenza, che si è espresso appunto in consiglio comunale. Credo che a questo punto tutta la partecipazione possibile sia stata in qualche modo consentita e ora si deve procedere invece con l'opera. Si procede con l'opera, prossimi passi la progettazione esecutiva e poi il bando per l'assegnazione dei lavori all'azienda che vincerà l'appalto. Io credo che in circa 12 mesi sarà possibile vedere l'inizio dei lavori. Il piano finanziario prevede un costo di circa 13 milioni di euro di cui 10 milioni e 700 mila euro già pronti da parte della provincia, mentre il resto dovrà metterlo il Comune di Vicenza, che si è impegnato a compartecipare con 2 milioni e 250 mila euro. Ma nell'ultimo piano triennale dei lavori pubblici, la giunta di centro-sinistra ha messo solo 600 mila euro. Adesso dovrà integrare con una variazione di bilancio. I lavori che inizierebbero tra un anno, poi da programma, dovrebbero durare due anni, quindi si potrebbe vedere il nuovo ponte a fine 2027. Ma per il centro-destra l'interruzione dell'iter, voluto dall'attuale amministrazione, ha portato a perdere 9 mesi. Sì, oggi il progetto è definitivo, è dichiarata la pubblica utilità, sono già stati avviati gli espropri, è già finanziato per 13 milioni. Se si partiva con il definitivo, si poteva tranquillamente, con l'inizio del 2024, avviare in che lavori. Abbiamo perso 9 mesi e questo vuol dire che vedremo la nascita di nuovo ponte, probabilmente in ritardo di un anno. Operazione della Guardia di Finanza, sgominata un'associazione criminale dedita al riciclaggio internazionale. 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, 5 ai domiciliari e un sequestro preventivo di oltre un milione e mezzo di euro, sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, tra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia. Sgominata dalle fiamme gialle, un'organizzazione dedita al riciclaggio internazionale di denaro. 18 le perquisizioni in abitazioni e aziende, nelle disponibilità degli indagati. L'ipotesi è quella di un riciclaggio di denaro contante per circa 110 milioni di euro, che sostanzialmente proviene da delle condotte di frode fiscale, di alcune società sostanzialmente operanti un po' in tutto il nord Italia, da Brescia, Mantua, Alessandria, Vicenza, Padova, Verona, che sfruttando una sorta di sportello bancario abusivo, gestito da un soggetto di nazionalità cinese riusciva a trasferire all'estero denaro attraverso flussi finanziari giustificati da transazioni commerciali fittizie, cioè da fatture false, per poi retrocedere questa mole di denaro ai soggetti beneficiari della frode, a un costo minimo di 1,5% dell'importo trasferito. Quindi sostanzialmente abbiamo intercettato circa 556 viaggi di cosiddetti spalloni che portavano grossi quantitativi di denaro contante. Pauroso incidente in Riviera Berica, vediamo. Al Bettone ancora un pauroso incidente sulla Riviera Berica. La nebbia è fitta di primo mattino e due auto si scontrano frontalmente. Un'utilitaria proveniente da 90 con a bordo due persone avrebbe sorpassato un autocarro senza accorgersi a causa della pessima visibilità che stava arrivando sulla corsia opposta un'altra vettura con tre passeggeri a bordo. Nell'impatto cinque feriti, tre lievi, un codice giallo e uno grave in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco e i medici del Suom 118 che hanno trasportato i due feriti più gravi all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Campiglia e Sossano per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente che ha mandato in tilt il traffico sulla Riviera Berica per due ore. Uno stalker si presenta a casa dell'ex moglie in piena notte. Intervengono i carabinieri. I carabinieri di Camisano Vicentino, a seguito dell'intervento richiesto da una donna, hanno arrestato in flagranza del reato di atti persecutori l'ex coniuge. L'uomo, già destinatario dell'ammonimento del questore di Vicenza, alle due di notte si era presentato all'esterno dell'abitazione della vittima chiedendole insistentemente di farlo entrare. Chiarita la dinamica dei fatti, i militari hanno proceduto all'arresto dell'uomo. Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima con l'applicazione del braccialetto elettronico. E adesso un'altra storia di violenza nei confronti di una donna. I carabinieri di 90 Vicentina, intervenuti a seguito di una denuncia, hanno arrestato in flagranza un uomo residente in provincia con precedenti che nella medesima mattinata, nel corso di un litigio, si era reso responsabile di maltrattamenti, percosse e minacce nei confronti della convivente. Acquisite le testimonianze, ricostruita la dinamica dei fatti, i militari hanno proceduto all'arresto indifferita, così come previsto dalla recente disposizione di legge. Il giudice ha disposto l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'applicazione del braccialetto elettronico. Andranno a processo un gruppo di nomadi accusato di aver commesso 17 truffe ai danni di anziani, anche nel Vicentino. In appena otto mesi erano riusciti a derubare 17 anziani, raggirandoli con la tecnica della telefonata da parte del finto avvocato, del finto maresciallo, che chiedeva soldi per risolvere una situazione grave in cui si era cacciato un figlio o un nipote. Una banda di cinque nomadi, residenti tra le province di Treviso e Pordenone, andranno a processo il prossimo 12 novembre per tuffa aggravata in concorso. L'inchiesta era stata condotta dalla procura di Padova. Gli ultraottantenni, raggirati tra l'agosto del 2022 e il febbraio del 2023, vivevano tra le province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Il colpo più grosso, ai danni di un 82enne di Montebelluna, da cui si erano fatti consegnare con l'inganno quasi 60 mila euro tra contanti e gioielli. I colpi anche a Padova, dove ad un'anziana avevano rubato 40 mila euro, e poi Asolo, Fonte, Riese, Pio Decimo, Pieve del Grappa, Pederobba, Spinea, Romano Dezzelino, Bassano e Rossano Veneto. L'indagine della procura di Padova era partita dopo una truffa commessa a Vigonza ai danni di un 87enne che aveva consegnato soldi e gioielli per salvare un nipote coinvolto in un fattomatico incidente. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei nomadi sono stati ritrovati molte preziosi rubati e documenti di orologi di valore. E anche quest'anno a Vicenza apre la terrazza della Basilica Palladiana. Riapre la terrazza della Basilica Palladiana, rientra tra le iniziative per il rilancio del centro, un invito a turisti e vicentini a ripopolarlo. Si parte mercoledì 20 marzo in concomitanza con l'apertura prolungata fino alle 22 della mostra Pop Beat nell'ambito del programma di eventi E' Primavera, concepito per rendere attrattivo il centro storico. Siamo riusciti ad aprire in anticipo rispetto a quello che è capitato negli ultimi anni la terrazza della Basilica Palladiana grazie ad un accordo con il gestore. Infatti già da domani, da mercoledì, sarà aperta in corrispondenza l'apertura straordinaria della mostra che ricordo sarà aperta fino alle 10 di sera per i prossimi 7 mercoledì. E quindi è un momento importante per la città perché sta dentro al progetto, al programma di rivitalizzazione del centro storico che stiamo portando avanti. Il calendario di E' Primavera parte stasera con il giorno dedicato allo sport a cui parteciperanno le associazioni di pulgelato e arti marziali in piazza Biade. Il mercoledì è dedicato alla musica nei locali per passare al giovedì dedicato a famiglie e bambini con gli artisti di strada che si esibiranno nelle piazze del centro. Ma il programma guarda oltre ad una città che si prepara anche in vista dell'adunata nazionale degli Alpini di maggio. Una città più sicura grazie agli eventi e grazie alla presenza di tante persone per le vie e per le piazze del centro. Per questo abbiamo voluto ogni martedì eventi con le associazioni sportive, tanto sport nelle piazze proprio della città, del centro storico. Il mercoledì concerti e il giovedì momenti per le famiglie con animazioni per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. In più chiaramente il grande e straordinario appuntamento dell'adunata del 10 al 12 maggio che vedrà la città con centinaia di migliaia di alpini di presenza. È un grande evento per il quale ci stiamo preparando. È tutto per questa edizione di TG Vicenza. Prima dei saluti vi ricordo gli ospiti di questa sera al focus del nostro direttore Luigi Bacialli. Ci saranno Anna Maria Bigon, Massimo Bitonci, Tania Busetto, Diego Cancian, Giuseppe Pan, Carlo Pasqualetto e Simonetta Rubinato. È davvero tutto, io come d'abitudine vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e non posso che augurarvi un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta.